Nell'ultimissimo giorno di giugno, esattamente il 30, c'è stato un momento, signori, in tv molto importante. È stata trasmessa la replica di una trasmissione di Carlo Conti che coinvolgeva in qualche modo il compianto Maurizio Costanzo e quindi anche di conseguenza Maria De Filippi. Come tutti sapete il marito della conduttrice Mediaset se n'è andato, gli abbiamo dato l'addio nel mese di febbraio e quindi la Rai ha avuto molti dubbi prima di prendere una cavolo di decisione che sia definitiva sul volto dell'indimenticabile Maurizio Costanzo Show. Carlo Conti ha deciso di registrare un video, che è stato mandato in onda prima che iniziasse la replica di tali e quali. Ha parlato dunque di Maurizio Costanzo e le ultime indiscrezioni riferiscono anche di un probabile contatto tra lo stesso Conti e Maria De Filippi prima della scelta finale. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e cosa ha fatto alla fine Rai 1, col pubblico che ha ovviamente apprezzato il gesto. Dunque, non è stato semplice per Carlo Conti decidere cosa fare perché ci sarebbe stato un momento dedicato a Maurizio Costanzo. Sono state fatte le necessarie e dovute riflessioni e alla fine, pare anche grazie al placet di Maria De Filippi, è andato tutto regolarmente in onda su Rai 1. Queste le prime parole del conduttore di tali e quali, care amiche, care amici, buonasera. Scusatemi se mi intrometto prima di questa replica di una puntata di tali e quali, ma vi volevo dire una cosa importante. Poi Conti nel videomessaggio ha rivelato la notizia su Costanzo, in questa puntata, che è andata in onda un anno fa, il quarto giudice è interpretato da Massimo Lopez ed è l'imitazione del grande Maurizio Costanzo. Ci siamo interrogati molto se mandare in onda questa puntata o no, visto che, ahimè, nel frattempo, il grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato. Abbiamo ritenuto che fosse giusto così, di mandarla in onda, perché per noi Maurizio Costanzo è un'icona, è un mito, non morirà mai, è un uomo della televisione, è la televisione. E infine ha aggiunto sull'imitazione a Maurizio, e quindi è un nostro omaggio, è un nostro grande gesto di amore e di affetto per questo enorme personaggio della televisione italiana. E il sito Gossip TV è convinto che ci sia stata anche una telefonata tra Carlo Conti e Maria De Filippi, con quest'ultima che avrebbe dato il suo benestare. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.